Sempre più accattivante e competitivo il turismo offerto nel periodo estivo a Castel San Vincenzo, una svolta economica e occupazionale in crescita negli ultimi anni. La stagione turistica estiva a Castel San Vincenzo è partita con il segno positivo. L'afflusso di visitatori provenienti sia dall'Italia che dall'estero è in crescita di settimana in settimana e questo tende a far pensare nel piccolo centro ai piedi delle Mainarde a un mese di agosto all'insegna del tutto esaurito. Ci stiamo abituando ad un'influenza turistica sempre più consistente, il commento soddisfatto della sindaca Marisa Margiotta e stiamo rispondendo alla crescente domanda di trascorrere le vacanze nel nostro comune grazie alla collaborazione dei concittadini che hanno capito quanto sia importante rendere ospitare il paese mettendo a disposizione le abitazioni del posto per coloro i quali hanno programmato di trascorrere alcuni giorni di renax e tranquillità nel borgo dell'Alto Volturno. Un'offerta turistica variegata può garantire solo da qualche anno a Castel San Vincenzo per le sue numerose attrattività sportive al lago e nell'attività della cucina locale. In quest'ultimo caso la ristorazione è migliorata e aumentata. Tutto c'è in breve tempo, ha fatto recuperare terreno e permette al comparto turistico naturale dell'Alto Molise di guardare al futuro con più fiducia.